Il mister dà fiducia a tutti, è solo lavorare forte e lui lo vede, quindi quando lavori paga sempre. Abbiamo iniziato bene contro il Sassuolo, abbiamo fatto un bello primo tempo, hanno fatto due goli, abbiamo fatto degli errori piccoli, però il calcio si gioca con i dettagli e l'abbiamo perso questa partita. Penso che non siamo andati a Roma con il spirito giusto. Questa settimana abbiamo lavorato sui dettagli e sul spirito, tentare di più e fare più attenzione ai dettagli. Tutte le partite sono importanti, lo sapevamo prima, però adesso dobbiamo metterlo in campo e dimostrare che vogliamo veramente andare in Champions. Ma come l'ho detto abbiamo lavorato forte questa settimana e adesso aspettiamo la partita contro il Benevento per dare tutto. Ibra è un giocatore importante che dà fiducia, che parla, che si sente che ci abbassiamo, Ibra ti dà questa voce che ti fa alzare, quindi è importante che Ibra sia tornato e speriamo di vincere contro il Benevento. Penso che il Benevento sarà bassa, però noi lo sappiamo che abbiamo qualità, che possiamo fare delle belle cose, quindi è solo avere fiducia, giocare il nostro gioco e andare davanti e davanti e fare attenzione ai dettagli. Io sono arrivato in gennaio, però avevano fatto delle belle cose e adesso alla fine così non si può mollare, dobbiamo combattere sempre e sempre di più, perché adesso c'è cinque partite e sono cinque finali, quindi lavorare, andare come abbiamo fatto prima, sarebbe bene andare in Champions per finire l'anno bene. Grazie a tutti.